Comincia il campionato di calcio, addio domeniche tranquille. Il settimo giorno, filo a luglio inoltrato, sarà puntualmente consacrato alla febbre. Bergamo, 12.000 spettatori per Juventus-Atalanta, 3 a 1. Una Juventus decisa a smentire le apprezzioni dei suoi dirigenti. L'Atalanta fa di tutto per non sfigurare. Segna per prima, ma il secondo dei due gol di Astori le sarà fatale. Ecco l'azione. Gol! Il numero 8 è Fiola, che gioca a mezz'ala.